Al mercato una proposta è centinaio come questa, è tutta sbuona, prendiamo la punita. Ah, finalmente fuori dopo 15.000 anni, non ce la facevo più. Ma chi sei il tuo? Chi sono io? Chi sono io? Piacere, è un genio. Un piccolo piatto in Assange, un bicchiere piatto senso, una tazza in un hotel, un bellissimo gioiero. Non stanno troppo grande per giocare con la girandola? Ma non è tua, è mia! Me l'ha regalata già male. Viva! Questa prima c'è quella della vita, mentre questa è la linea dell'amore. Coraggioso, onesto, leale. Portatelo via! Tantemente lungo che sarei capace di fare del male, non vero? Sono una mosca. È vero, già male tanto, troppo! Da quando sono nato, sono tremendo. Se mi dici molto, mi voglio un senso. Voglio chiederle la mano di vostra pezza. Vai, 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 vai! E regalami il potere! È una ragazza? Ma al mio padrone piacciono le ragazze! Romanticone! La principessa può sposare chiunque? Visto, sposala! Basta che sia l'inco, abbia un regno e sia un principe. Meno male chiede a chiunque! Tu non devi essere triste. Se la principessa Ejamila non piace questo alandino, aliale, alatra, l'allero, l'erola per gli amici ali, per due motivi. Uno, vuol dire che la principessa Ejamila è una brava ragazza, soprattutto molto intelligente. E due, tu non sei alandino, aliale, alatra, l'allero, l'erola per gli amici ali, ma sei... Alandino! E' piglia! E spingiti forte a me e ti metterò ovunque pura. E ti cae, il mondo con me non c'era. E spingiti forte a me e il cielo diventerà. E' una lampada meravigliosa! Sono il tuo padrone! Significa che adesso sono io e il tuo padrone! Chiederò al genio di diventare gene! E' una lampada meravigliosa! E' un po' pericolo! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.